La prima firma del libro d'onore di Palazzo Vecchio porta la data del 20 aprile 1888. È la firma della Regina Vittoria. Oggi, per la prima volta, eccezionalmente, nella sala d'arme di Palazzo Vecchio, tutti potranno consultare i libri d'onore, quelli in cui i grandi della storia per un secolo e mezzo hanno posto la loro firma e le loro dediche. Anche i lettori della nazione, eccezionalmente, potranno consultare e conservare questa preziosa documentazione grazie a 20 schede che saranno in edicola gratuitamente con il giornale dal 3 novembre in poi. Siamo con Marisa Aloia, professoressa di grafologia e psicologa. Ecco, dottoressa, che cosa ha trovato in queste firme? Quale curiosità? Quale particolarità? Ho trovato intanto la storia e questo è veramente bello. È bello anche vedere come si sussegue nel tempo anche l'uso del mezzo scrivente perché qui si inizia dal 1800 e passa e abbiamo firme anche della Regina Vittoria che sicuramente non esistevano le penne a sfera. Quindi abbiamo chi ha firmato col pennino, chi avrà firmato con la stilografica. Quindi dal punto di vista proprio del materiale, per me è un materiale molto ricco. Ecco, qualche curiosità? Qualche particolarità della personalità che si può dedurre dalle firme, dagli autografi? Ma allora, intanto la firma non rappresenta completamente la persona perché ci vuole firma e testo. Ma la firma ti permette di capire che cosa gli altri volevano che arrivasse di loro alle persone. È un po' diciamo un biglietto di presentazione. Chi di noi non si è mai dilettato anche a provare a fare la propria firma quando eravamo più piccoli? Quindi questi sono elementi importantissimi. Allora, qui abbiamo un sacco di paraffi. Paraffi che cosa sono? Possiamo vedere quegli svolazzi nelle firme che prima erano quasi, se vogliamo, d'obbligo, nel senso che si doveva cercare di fare una bella firma elegante. Poi invece oggi sono andati sempre più diminuendo e quindi il fatto che possano apparire questi paraffi, queste linee non comprese nella firma, e ne abbiamo una molto interessante che vedremo, dove, tra l'altro è Clinton, se non sbaglio, dove si vuole abbellire la propria firma ma la sostanza non cambia. Siamo con il direttore De Robertis. Ecco, ci vuole raccontare questa iniziativa editoriale che oltretutto racconta come fa la nazione da 150 anni la storia di Firenze? Sì, è una iniziativa veramente particolare, perché credo che ne abbiamo fatte tante nell'arco degli anni, ne faremo molte, molte belle, magari anche più bella di questa, però questa è una cosa particolare perché è una cosa inedita, nel senso che finora nessuno aveva mai visto questo grande tesoro che il sindaco di Firenze, tutti i sindaci di Firenze raccolgono nella propria stanza, cioè i libri d'onore del Comune. Ogni ospite illustre che viene a Firenze va nella stanza del sindaco e lascia la firma, lascia un pensiero, lascia una dedica, un ricordo. E quindi l'abbiamo raccolta in delle schede che regaleremo a partire da martedì prossimo, martedì, mercoledì e giovedì, tutti i martedì, mercoledì e giovedì per cinque settimane. Schede che raccolgono la firma e poi invece faremo al termine di tutto questo anche un libro che venderemo allegato al giornale per dare ancora un più ampio respiro a tutto questo, perché le firme belle, significative non sono solamente 30, poi le schede più di 30 non riuscivamo a farne, però le schede sono molte di più, le firme belle sono molte di più e con quelle ci faremo un libro. Siamo con Marcello Mancini, uno dei curatori, insieme a Maurizio Sessa, di questo progetto della Nazione. Qualche curiosità, come è nata l'idea, che cosa avete ricavato? Devo sottolineare intanto quello che giustamente dicevi te, il lavoro di Maurizio Sessa che con me ha curato questa iniziativa. è nato dal fatto che queste firme sono lì nella sala di Clemente VII, nella stanza del sindaco, da tre secoli in pratica, cioè sono da 1888 ad oggi e nessuno le aveva mai viste a parte i sindaci ovviamente e quanti frequentano quelle stanze di Palazzo Vecchio. Siccome c'era l'opportunità di rendere pubbliche, la disponibilità del sindaco Nardella è stata fondamentale in questo e abbiamo voluto coinvolgere i nostri lettori anche per dimostrare come Firenze sia, non ce n'era bisogno, ma insomma anche sotto queste forme sia stata al centro del mondo e abbia influenzato la storia del mondo con i personaggi che l'hanno visitata. Sono tutti i personaggi che hanno scritto la storia, ripeto, attraverso tre secoli, dal 800, 900 e anche i primi anni del 2000 perché ci sono firme di personaggi importanti come quella di Bill Clinton che era Presidente degli Stati Uniti nel 99 quando è venuta a Firenze o quella di Roberto Benigni, premio Oscar, o quella di Arafat che è venuta a Firenze nel 2004, oppure quella di Ted Kennedy che è venuta nel 2006 per l'anniversario dell'alluvione. Quindi ecco, una serie di testimonianze che sottolineano ancora di più di quanto abbia il ruolo svolto da Firenze nel mondo e soprattutto anche il ruolo svolto dal giornale di Firenze dal momento che nel 1888 la nazione c'era già, essendo stata fondata nel 1859, quindi ha raccontato tutti questi eventi che si sono succeduti e che sono stati puntualmente siglati da questi autografi celebri. Ecco, una dedica in particolare che vi ha colpito? La dedica che ci ha colpito è stata quella di Gorbachev che è venuto a Firenze per due volte. È venuto nel 1994 con la moglie Raissa e insieme hanno lasciato questo omaggio a Firenze sul libro e poi è tornato nel 2004 e Raissa non c'era più e lui rivedendo la firma dell'amata moglie sul registro si è commosso e ha scritto «questa volta sono solo ma la vita continua». Mi sembra un atto d'amore ulteriore di Gorbachev verso questa fest lady inedita che ha fatto la storia anche lei della storia moderna della Russia, della nuova Russia. Due pagine importanti di storia dove appunto la storia si divide qui a Firenze. Beh, ci si può davvero divertire a cercare le firme più strane e emozionarsi a ricostruire i momenti storici attraverso le firme dei grandi personaggi. Le pagine più mi sono rimaste impresse tra i tanti volumi sono quelle a cavallo dell'agosto del 1944. Firenze nell'11 agosto si libera e qualche giorno prima si vedono su una pagina, la prima a sinistra, le firme dei gerarchi nazisti che ancora sono in città perché controllano e bloccano la città tenendola in scacco. Ma l'11 agosto si vedono le firme degli ufficiali dell'esercito alleato americano-inglesi che entrano in città e dunque sulle due stesse pagine praticamente si vive un passaggio storico drammatico e per fortuna volto poi alla riconquista della libertà. È incredibile, è emozionante e ti dà proprio il senso dell'importanza di questa iniziativa che non è soltanto per magari curiosi, storici, ma è proprio per i fiorentini che vogliono conoscere più da vicino cosa è successo in tanti momenti topici della città in Palazzo Vecchio. Grazie.